Ci rileggi il biglietto. Abbiate cura di nostra figlia. Si chiama Annie. Ha il collo alla metà di un ciondolo. Così, quando verremo a prenderla, saprete che è la nostra piccola. Giù dal letto! Ha chiamato il municipio! Mandano un ispezione! Niente colazione finché la casa non grilla! Sì, signora Annie. Annie, aspetta! Fermati! Perché corri? Perché così arrivo prima. Ragazzini. È una manna per la tua candidatura. Piacerà a tutti sapere che ha salvato un'orfanella che stava per essere investita. Will Stacks vorrebbe portare Annie fuori a pranzo. Può tenermi per quanto vuole. Scherzo. Dov'è la fregatura? Più ci vedono insieme, è per la mia campagna. Se vengo a vivere con te diventi presidente. Non ci starei pensando seriamente. È simpatico. Credo di sì. Solo chi ancora non lo sa. Soffri il mal d'aria? Sull'altalena una volta ho vomitato. Annie sta cambiando tutto. Dice che lei canta molto bene. Lei canta bene. È un miracolo, abbiamo trovato i genitori. Così sembra. Non tradirò il tuo segreto. Ti sei affezionato. Qualcuno ha postato la sua foto su Twitter? Caro, i miei capelli sono esagerati. La colazione, non farla raffreddare. Anni, mi hai fatto venire una fame da lupi. Che buono, cos'è? Paprika? Origano?